3, 2, 1, let's go! Buongiorno ragazzi e ragazzi! Oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video! Questo video ci tratta di un video che avete chiesto in tutti i video in pratica dove abbiamo fatto un po' c'è il What's My iPhone e poi nel video dove ho aperto l'iPhone a Natale e quindi me l'avete chiesto in tanti questa cosa e allora ragazzi le cover non sono tantissime beh sono 6 però ve l'ho voluto fare perché vabbè sono carine, sono belle e mi piace questo tipo di video quindi lo voglio fare allora è la prima volta che colleziono le mie cover perché prima le cover per il mio cellulare non si trovavano perché si trovano più per iPhone e allora le conservo in questo scatolo della Polaroid di Giulia e quindi viva la vita! allora apriamo allora io me le ricordo perché da poco le ho comprate quindi andiamo in ordine cronologico la prima cover aspettate che le faccio un attimo allora la prima cover che ho avuto che voi sicuro conoscete è questa qua nera, tutta nera con il suo scritto I am the queen con appunto la corona sopra e come sapete è uscito anche il popsocket che io ho levato perché ho intenzione di comprarmi un'altra cover trasparente perché glielo voglio mettere sopra seconda cover trasparente allora non l'ho messo qui sopra perché una la voglio tenere vuota perché magari è più utile e un'altra la voglio comprare in modo da metterci poi il popsocket sopra e io ho messo questo foglio dietro altrimenti si leva l'adesivo allora questa è la seconda cover semplicissima stradasparente pagata 1,50 euro tipo pochissima però l'ho utilizzata per un sacco di tempo perché è bellissima allora ragazzi tutte le cover le ho comprate ai cinesi tranne una che tra poco vi faccio vedere che tengo sul cellulare allora quindi questa qui non ce l'ho messo qua ok sì e questa trasparente poi la terza cover che ho comprato però questa l'ho comprata da ebay perché non la trovavo dai cinesi aspettate che ve la levo un attimo è questa tutta fucsia con poi il cerchio qui per la mela molto molto bella è semplice però me ne piace un sacco e ho deciso che non comprerò le cover troppo cicciottose perché io le metto in tasca quindi non può andare questa cosa poi poi un'altra cover è questa qui che è un po' più pesantuccia perché ha questa robetta qui tipo tu lo puoi mettere tipo aspettate tu lo puoi mettere tipo così e ti guardi video cose del genere ed è molto molto bella c'era sia oro sia blu sia nera sia rossa e questo colore a me piaceva questo colore e ho preso questo colore sono tutte in silicone perché mi metto paura di prenderle rigide perché metti caso cade il telefono si spacca in mille pezzi però passe allora e in pratica questa qui questa non mi ricordo molto molto semplice e molto molto carina poi un'altra cover molto bella ma molto bella è questa troppo bella ed è tipo a me sembra una lettera con gli occhi e poi è tutta colorata agli occhi appunto poi ha il bordo nero pure l'interno nero e poi gli occhi vabbè gli occhi poi la parte fucsia viola e gialla molto bella fighissimo poi l'ultima cover che questa è la mia preferita perché fa sul telefono un effetto troppo bello questa e questa che vi faccio vedere sono le mie preferite in assoluto ovvero questa qui molto semplice guardate è bellissima ragazzi allora ha varie stelle che non si vedono per niente si ora si varie stelle e tanti tanti bei glitter e poi tiene varie sfumature tiene il giallo tiene il fucsia il viola e il celeste ed è troppo bella ora ve la faccio anche vedere fa la mela e poi pure qua ha scritto iphone coloratissimo bellissimo mi piace un sacco questo cover e è questa non vorrei accendere la torcia ok eccola è questa che secondo me ora metterò perché mi piace un sacco quindi la metto e levo questa ed è bellissima ragazzi wow anzi ora vi faccio vedere le altre come stanno sul telefono perché mi sono scordata però vabbè pazienza aspettate che la levo questa è in silicone ma è dura da levare ti prego voglio rompere il cellulare ma dove io metto sempre paura quando si incastra ok a posto allora questa che ha tipo la letterina postale qui sopra ora ve la faccio vedere ed è questa qui Giulia secondo te ma io dovevo mancare tutto serio secondo voi io mancavo in questo bellissimo video spiegami il tuo cover il tuo aspetta vieni qua allora questa invece appunto è la letterina postale a me sembrava una lettera a te che sembra questa a me sembra un gufo a lettera ok poi vi faccio vedere indossata vi faccio vedere indossata questo che è questa qui aspetta devo fare una cosa io con questa per favore non ora ed è questa qui che fa tipo la mela un po' rosata ed è troppo bella posso farla una cosa solo Giulia dopo la fai e questa volevi fare si stai attenta allora poi c'è una specie di pop socket no Giulietta fate così ti ho troppa paura allora comunque questa ma io adoro questa questa è bellissima cioè io no in realtà io l'ho fatta vedere io però non pensavo che c'era però si bella no e tu ah si bella poi vi faccio vedere questa che è I am the queen che hanno regalato mamma e babbo a Natale e gli ha tolto il pop socket si già l'ho fatto vedere ed è questa tutta nera bellissima e infine aspettate ok c'è questa che è quella trasparente la nera l'hai già fatto vedere l'ho fatto vedere tutte quanto non ti preoccupare tutta trasparente che ora piano piano si fa gialla però è bellissima ah è una nera yeah credo che era una nera ora io vado a mettere di nuovo questa perché è bellissima mi piace un sacco è stupenda guardate poi ci sarà anche la mia collezione di cover e poi ci sarà challenge una sfida tra me e lei allora ragazzi le mie cover sono poche ma bellissime cioè io le amo no sono sei una aspetta una due tre quattro cinque e sei questa è la mia preferita raga allora e poi scrivete voi giù nei commenti qual è la vostra preferita ora ve le rimostro tutte insieme allora c'è questa quella che mi hanno regalata i miei genitori a natale non la devi ricordare perché si vogliono vedere il video appunto però poi c'è questa qui che è molto semplice e secondo me solo perché odia tipo le cover colorate la voterà trasparente poi ma dove sta il mio cellulare il mio cellulare dove sta sotto sta là sotto allora poi c'è questa che era una della mia era la mia preferita fino a quando è arrivata quella che ora ho indossato chi è? questa qui con no no il bucchetto per la mela è il bucchetto per la mela però anche io voglio entrare poi è facile poi questa che ha questo cosodino qui molto salvo così ecco così così tipo va bene questa molto fucsia poi questa qui che ha sembra una letterina postale no ma cioè è tanto carina ma cioè non riesci a capire che sembra un gufo no mi sembra molti alle scicchia così a me sembra una letterina postale un gufo a lettera vai dai questa con i bordi tutti neri e fa e infine questa che è la mia preferita come la votero e non mi hai fatto vedere ma c'è bellissimo e questa la voto io è la mia preferita Giulia tu quale voti? voti fammi vedere già l'abbiamo fatto vedere ma l'ho vista ma che fa? scusa muoviti io ne ho due preferite dica tre anzi quattro questa queste due queste qui tre mi piaceva anche i am qui costo i am qui le mie preferite invece sono questa e questa quindi basta possiamo ho male ahhh il bro del nassico sto mutando ma c'è mi ho detto sto mutando cioè non sono neanche un rosso è solo calda il mio naso è rosso perché sto raffreddata quindi è bello la vita c'è proprio estate allora quindi voglio che viene di nuovo l'estate faccio quindi uscirà tri vieni con me tri chiu guà guà quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto a noi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii trattino basso ci saranno tante foto calva su facebook marghe giulia kawaii real tante informazioni quando usciranno i video foto tutto sul secondo canale magi tv quando siamo piccini piccini cucciolotti su musicali piaccia la marghe giulia real musicali e ci sono anch'io se volete le maglie le cover le tazze cuccini di tantissimi colori no e tantissime altre cose andate su bu vai dici allora se volete le maglie le tazze le cover pure tantissime altre tantissime cose di tantissimi colori andate su www.mugghegiulia kawaii punto it quindi se il video allora se vi ricordo che io marghe io giulia insieme a voi magic family formiamo no formiamo insieme a voi la magic family cioè amore puro e se vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto no se non vi è piaciuto shhhh 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 no 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 Grazie a tutti.